Se vinci tu, ti farò un altro regalo di una cosa rarissima Che nessuno ha Ma sai che io forse so chi sei tu? Vediamo un po', vediamo un po' Ah, ha detto... Hai visto? Se questo video raggiunge 6.666 like Ti regalerò delle skin che non hai mai visto prima No, ma adesso voglio proprio vedere, no? Perché se è vero veramente questo tipo è impazzito Ma questo è impazzito Ma come fa? Ma come fa ogni volta? Sono veri anche questi Ma guarda 31.920 V-Bucks Ma è pazzo in testa questo È pazzo in testa Ma come fa? Ma come fa? Ma io non ci credo Non ho parole Eccomi qua Ma ancora tu? Ma che cosa? Ma... Perché sei stupito? Ma perché... Ti ho fatto un piccolo regalo prima È vero È vero, è vero Mi sono infatti reso conto e detto Ma questo è fuori di testa Ma come fa? Ogni regalo ha un prezzo No, no Come hai imparato a fare tutte queste cose? Questi V-Bucks? Spiegami anche a me E se come? Mio Dio! Mio Dio! Che spavento che questo! Questo era un tuo inviato immagino È un mio affiliato Ah, ecco Infatti Comunque non preoccuparti Dove prendo i V-Bucks No, invece mi preoccupo Perché ho paura di essere bannato Forse sarai bannato Forse no ma Non è importante Tanto alla fine Lo prenderò io l'account Perché ho una sfida da proporti I 10.000 V-Bucks erano sulla fiducia Ti sono piaciuti benissimo Ma ora dovrai pagare il loro prezzo Ma se io non volessi scusa un attimo Vedi l'account che hai in questo momento davanti a te Finirà a me Sì, sì, sì 1v1 Rivincita Se vinco Me lo prendo davvero Però non box fight stavolta Vuoi fare build fight? Quello che vuoi Comunque Se vinci tu Oltre a quei 10.000 miseri V-Bucks Che posso crearmi Quando voglio e come voglio Se vinci tu Ti farò un altro regalo Di una cosa rarissima Che nessuno ha Che cosa? Non preoccuparti Non mi fido più di tanto io Vuoi che mi prendo direttamente il tuo account? No, no, no Vieni subito qua che andiamo So che tanto sai entrare da solo Non so come Aspetta un attimo Eccolo qua Guardalo qua Ma sai che io forse so chi sei tu? Adesso io prendo il telefono E vediamo un po' No, fermo Non chiamare nessuno Vediamo un po' Se sei veramente Chi penso che ti sia Non usare chiamare nessuno Mi hanno consigliato i miei script Dall'ultimo video Adesso vediamo proprio No, no Che fai? Sto editando Spegni subito quella chiamata Se solo Continui anche solo per un secondo Quella chiamata No, no, dimmi dimmi Il tuo account Me lo prendo io subito Ma stai buono tu Stai buono Buono? Io stai buono Lascia stare Ti saluto dopo Adesso mi prendo il tuo account Mettiti subito Ciao Ciao, ciao Ti sei salvato questa volta Ma adesso Adesso chiamo un'altra persona Vediamo se è quest'altra persona Vediamo un attimo Spegni quella chiamata Spegni quella chiamata Ti ho detto di Spegni quella chiamata Puoi ascoltarmi? Non risponde neanche Sei fortunato per questa volta Va bene allora Quindi a quanto si arriva Hacker dei miei stivali? Scegli tu A tre o a cinque? A cinque Va bene Let's go Ah vedo che hai potenziato Le tue abilità Non so se lo sai Ma i miei siti sono i migliori Fare spunto Fare spunto info Fare spunto ti spacco Metà Questo era il mio preferito Ti è piaciuto? Eh un po' no 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 Uno a zero Aspetta che inserisco anche Le hack per la mia Perfetto Puoi vedere che ti uccido Utilizzando solo la R No 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 Eh Eh sì Ho fatto apposta A farti vincere Ah pure Pure Sì vediamo come canterai Quando il tuo account Sarà mio Pronto? Mi distrutto Vai Volevi prendermi con quel colpo debole? Sì Proprio con quello Questo ti sembrava un colpo debole? Perché ho sentito E questo ti sembrava un colpo debole? Tutti i tuoi colpi sono debole Non hai scampo contro di me Eh infatti vedo che scappi Non ho paura di distruggerti Ma che vuoi sparare? No No Aspetta un attimo per la prossima Dato che So già che vincerò questo 1v1 Sì sì Faccio C'è a partire il programma Per tenere il tuo account Ma cosa? Forza È partito Ma per favore Dai che ti sto distruggendo Cos'è? Sei scivolato? Eh un po' sì Dici come il tuo canale Scivolerà in mano mia Eh pure Adesso anche il canale Oltre che Oltre che Credi che io mi accontenti Solo di un misero account di Fortnite Che posso ottenere quando voglio Ma perché mi lanci queste sfide Se tanto sai già Di poter ottenere tutto quello che vuoi? Perché mi diverto distruggendoti 3.60 Boom 7.20 Ma dai Ok Mi sa che devo installare un altro programma Far rispunto What? Illuso Dai facciamola finita una volta per tutte Sento già il sudore che sgoccio là No come Come hai fatto? Prendere No No ma che ci fai tu? Ah no Tu sei solo il primo No Ma Akera è una domanda per te Che vuoi? Ma a te piacciono i glitch per i V-Bucks di Faris? Io li ho creati I glitch per i V-Bucks I glitch per i V-Bucks di Faris? Sì Li ho creati io Va bene Sono io Va bene Va bene Va bene Ehi che cazzo Stai fermo Ma stai fermo Ho vinto questo round No è contro le regole Non hai detto che non si poteva parare Va bene Pronto Ma ehi Ma No Ma Ma Eh Come osi? 4 a 4 Guarda che faccio partire il programma No 4 a 3 4 a 3 Non ti lascerò vincere l'ultimo Donato Donato Mi sono youtuber Donato Ti meriti solo i glitch per i V-Bucks di Faris Ti meriti No 4 a 4 Oh cavolo siamo pari Ma sei perdo Perderò l'account No 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 Proprio per niente Proprio per niente Adesso ti farò vedere Ti sei solo salvato di fortuna Hai paura Hai paura Non hai paura Io non ho paura di No No Ma Dove sei? No 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 Un po' scarso Per essere un hacker Con dei programmi Di imbot No 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 A perdere No e ho vinto E questa sfida L'ho vinta Io No No Non per rimanere salvo, così impari, così impari, così impari. Adesso mi avevi promesso un regalo, mi avevi promesso un regalo, dov'è il mio regalo? Dov'è il mio regalo? Ok, tra poco ti arriverà questo regalo, anche se non te lo meriti. Ma se ti ho stracciato. Tutta fortuna. Sì, sì, sì. E adesso cosa devo fare, scusami? Dov'è il mio regalo? Aspetta e vedrai. Riavvia il gioco, fai pure. E ricorda, se questo video raggiunge 6666 like, ti regalerò delle skin che non hai mai visto prima. Che skin? Non preoccuparti, saranno skin talmente rare che neanche i tuoi iscritti riconosceranno. Sicuro che tutto ciò non sia illegale? Forse ti baneranno un account, forse ti chiuderanno il canale, ma non saranno problemi niente. Ora riavvia il gioco, forza! Va bene, raga, proviamo. Boh, sono proprio curioso di scoprire che cosa mi ha, che cosa mi ha, mi ha, mi ha regalato adesso. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ha detto qualcosa di... Hai visto? Il lama lattico! Questo spray, raga, è rarissimo! Costa tantissimo, raga! Ma cosa? Non costa nulla 6 programmi per farlo. Con anche 1000 V-Bucks! Prego, ricorda, 6666 like e riceverai delle skin rarissime.